L'autonomia differenziata, così come concepita dal ministro Calderoli, non esiste più. La Corte Costituzionale ha esaminato i ricorsi presentati dalle regioni di centrosinistra, Puglia, Toscana, Sardegna e Campania, e ha di fatto smantellato i capisaldi della riforma. I giudici non hanno bocciato in blocco la normativa, perché la devoluzione è presente in Costituzione dal 2001, ovvero da quando fu riformato il titolo V, ma hanno sancito l'incostituzionalità di ben sette punti, svuotando la riforma ed accogliendo tutte le criticità sollevate da quanti in questi anni hanno combattuto contro la secessione in salsa leghista. In primo luogo, la Corte ha ritenuto illegittima la distinzione tra materie e l'EP, dunque legate alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi da erogare, e materie non l'EP, sancendo il principio secondo cui possono essere trasferite solo singole funzioni e non intere competenze. Dunque viene meno la possibilità di trasferire to court materie quali istruzioni, trasporti, politiche energetiche e commercio estero. In tale quadro, anche il trasferimento di singole funzioni dovrà essere soggetto a specifiche analisi per verificare l'efficienza e soprattutto la conformità al principio di sussidiarietà. In seconda battuta, la Corte ha giudicato, priva di donne e criteri direttivi, la delega conferita al Governo per definire i LEP, perché limita il ruolo costituzionale del Parlamento. Terzo punto di illegittimità riguarda la previsione che i livelli essenziali di prestazioni siano determinati da un decreto del Presidente del Consiglio, ovvero da un semplice atto di natura amministrativa. La Corte, inoltre, boccia la procedura stabilita dalla legge di bilancio 2023, che dispone la definizione dei livelli essenziali di prestazioni sulla base della spesa storica delle singole regioni. Quinto punto della riforma, considerato illegittimo, riguarda il principio stabilito dalla riforma Calderoli, secondo cui le regioni avrebbero potuto considerare facoltativo il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, perché l'esivo dei vincoli di solidarietà e unità della Repubblica. La Corte, eccoci al sesto rilievo di legittimità, ha escluso la possibilità di modificare con decreto interministeriale le aliquote della compartecipazione delle regioni al gettito dei tributi erariali. Infine, per la Corte Costituzionale, l'autonomia differenziata non può essere stesa alle regioni a statuto speciale, che dispongono già di specifiche normative sul tema. In buona sostanza, dunque, la Corte ha rimosso l'inganno, ovvero tutte le previsioni volte a mettere in discussione il principio di sussidiarietà e di unità della Repubblica. La norma nella sostanza non c'è più, perché nella sua essenza è inapplicabile. Si tratta di una vittoria netta per le opposizioni e per le regioni che hanno portato avanti la battaglia, a partire dalla campagna, e dunque di una sconfitta senza appello per il governo, che compromette, tra l'altro, la tenuta del disegno di riforme fondato sullo scambio autonomia, premierato. Da questo punto di vista, la pronuncia riconosce le ragioni avanzate da Forza Italia, unica forza di maggioranza a prendere le distanze dall'autonomia e a sollevare dubbi sulla costituzionalità della stessa, e mette in seria discussione il referendum abrogativo presentato dalla CGL e dalle forze di opposizione con il sostegno di 1.200.000 italiani.